eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di aggiornamento su call of duty modern warfare remaster della versione rimasterizzata di call of duty 4 del lontano 2007 fatta dalla raven software oggi torniamo a parlare del multiplayer del gioco perché procedono i lavori di completamento alla sezione appunto alla modalità molti giocatore del titolo infatti lead designer della raven software emos oggi tramite il suo profilo twitter ha annunciato che la software house è al lavoro per portare importanti miglioramenti al gioco grazie ai feedback della community le cose su cui si stanno concentrando al momento sono il flinch delle armi in parole povere sarebbe il sussulto che noi subiamo quando veniamo colpiti e a quanto pare lo stanno risolvendo perché a quanto pare non è uguale come sull'originale call of duty 4 stanno lavorando anche per migliorare le granate fumogene e stanno lavorando anche per migliorare il suono dei passi infatti li stanno aggiornando per renderli migliori come l'originale titolo al momento sono state svelate sulle sue pagine soltanto questi tweet con queste pochissime informazioni quindi nei prossimi giorni rimanete sintonizzati che vi riporterò tutti i dettagli sui prossimi aggiornamenti e update di mother wolf remastered fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale